È stata una grande festa quella organizzata per celebrare il 25esimo compleanno della protezione civile di Pordenone. Il gruppo si è costituito nel 1998 ed oggi conto 80 uomini e donne che dedicano gratuitamente il loro tempo vegliando su cittadini e territorio, sia durante le emergenze che con attività di formazione e divulgazione, soprattutto tra i ragazzi delle scuole. La cerimonia ha avuto inizio con l'alza bandiera sulle note del lino nazionale, poi il numeroso gruppo di volontari giunti da tutta la nostra regione e da varie parti d'Italia ha sfilato lungo il centro storico, presentandosi all'intera città. Dopo la messa in Duomo le autorità, dal sindaco di Pordenone Alessandro Ciriani, all'assessore alla protezione civile comunale Monica Cairoli, dall'assessore regionale Riccardo Riccardi al ministro dei rapporti con il Parlamento Luca Ciriani e all'onorevole Emanuele Loperfido, hanno ringraziato il gruppo pordenonese per il suo costante impegno e per la dedizione che mette da sempre a servizio della comunità. A fare gli onori di casa il coordinatore Fabio Braccini, che in collaborazione con gli uffici comunali ha consegnato le benemerenze ai volontari che si sono distinti per particolare attenzione e generosità nel loro servizio. Celebrare 25 anni di protezione civile vuol dire celebrare 25 anni di solidarietà, di volontariato e di professionalità. 80 volontari qui a Pordenone pronti a dare una mano non solamente per la nostra comunità ma laddove serve, laddove o l'incuria dell'uomo o la furia della natura portano a delle sciagure, dalle calamità, a degli eventi alluvionali piuttosto che a un terremoto. Il grazie quindi si è costruito proprio sul campo, si è costruito sulle macerie, si è costruito nel fango, si è costruito nell'angoscia della pandemia dove la protezione civile è sempre stata presente. Aggiungo un fatto fondamentale, si tratta appunto di volontari, l'unico modo per pagarli è dire loro grazie. E oggi le istituzioni, dal governo, dalla regione e dai comuni l'hanno fatto in maniera solenne. Un momento di festa, non solo di fronte quindi a una tragedia a ritrovarsi con i gruppi della provincia di Pordenone, della regione, ma di tutta Italia. Qui per festeggiare questo splendido compleanno, 25 anni di protezione civile a Pordenone. Il nostro modo di dire grazie per quello che i nostri volontari fanno tutti i giorni nella loro quotidianità, testimoniandoci cosa vuol dire solidarietà, generosità, appartenenza alla collettività.